Ciao a tutti, per gli amati delle super sportive estreme oggi siamo orgogliosi di presentarvi una bellissima Yamaha R1, un 4 cilindri in linea da 180 cavalli, una potenza incredibile. La moto in questione, in condizioni veramente eccezionali, tutta originale a parte il portatario alle frecce, è stata gommata e tagliandata, quindi pronta a partire in tipico stile della Genesci Moto, sicuramente una chicca per chi sta cercando una moto del genere. Come dicevo prima, ritrovarlo, montati i tarponi paramotore, insomma, qualche accessorio che la resa ancora più accattivante. Se volete venire a scoprire questo fantastico gioiello e missile su Stada, ci trovate a Carota Ampertosella e via Bensinza 800, oppure trovate l'inserzione sul nostro sito internet